La matematica è la regina di tutte le scienze. Questa celebre frase è attribuita al noto grande matematico Johann Karl Friedrich Gauss e gli amici Gauss, il Princeps Mathematicorum, il principe dei matematici, anche così fu soprannominato dopo la morte. Allora, questa frase, che appunto si deve a questo grandissimo matematico dell'Ottocento, esprime perfettamente la visione che i matematici avevano della matematica nel periodo del Settecento-Ottocento, ma anche prima. La matematica era vista come la regina di tutte le scienze. E' ancora così? Beh, certamente, ancora oggi, tutte le scienze si basano sulla matematica, soprattutto come linguaggio, ovviamente. Ma, la matematica è una scienza? Se l'avreste chiesto a qualsiasi persona, con un briciolo di cervello, che fosse vissuto prima dell'Ottocento, la risposta sarebbe stata sì, ma anche prima della seconda metà dell'Ottocento, se vorremmo essere più precisi. Infatti, per esempio, Kant, nella critica della ragion pura, nell'estetica trascendentale, dice, sì, è possibile la matematica come scienza. Anzi, sì, la matematica è una scienza. Ma ora, nel linguaggio comune, attuale, moderno, è ancora vero che la matematica è una scienza? La risposta è no. La matematica, oggi, è sì, la regina di tutte le scienze, in quanto è alla base di tutte le scienze, ma non è una scienza. Perché? Semplicemente, la scienza si basa su un concetto chiave, il concetto di osservazione, di sperimentazione, comunque, si basa sul metodo sperimentale. Il metodo sperimentale, come ben sapete, si deve a Galileo Galilei, noto filosofo, scienziato, e matematico, italiano, non mozzi, ma era matematico, e matematico italiano, anche se non uno di spicco, più che altro filosofo e scienziato, fu il primo scienziato, per essere precisi. Quindi, filosofo, chiamiamolo per quello che era, un filosofo anche, tanto, la filosofi facevano di tutto, quindi. Allora, il metodo si basa, come ben sapete, osservazione, formulare l'ipotesi, mettere, verificare l'ipotesi, riformularla in caso serrata, e così, e poi si arriva a creare la teoria. Pian piano, così va il metodo scientifico. Come poi, fa notare, Karl Popper, un filosofo del Novecento, importante è la falsificabilità. Le scienze devono poter essere falsificabili, cioè, gli enunciati scientifici, non possono essere, cioè, non si può non dimostrare, la veridicità, la falsibilità, la falsi, falsabile, va bene, in senso, io non è che non posso dimostrare che un enunciato è falso, la scienza si basa proprio su questo presupposto, che io posso smontare l'ipotesi. Ora, questo può avvenire anche in matematica, per la voglia del cielo, però, una volta scelto il sistema di assiomi, ecco, e lì il gioco, in matematica, scegliamo noi, le regole base, quelli che prendono i nomi di assiomi, che, il sistema matematico più usato, il sistema assiomatico più usato in matematica, ZFC, NGB, che è equivalente a ZFC, si basano comunque sugli assiomi della vita reale, quindi, molte cose della matematica sono basate sull'intuizione, sensibile, o meglio, l'intuizione nello spazio e nel tempo, comunque, perché comunque sono quantità che sono definite spazio e tempo, o come relazioni, ma comunque, sull'intuizione si basano. Diversamente, è per tutti gli altri sistemi assiomatici, che ce ne stanno di tutti i colori, veramente, poi qua stiamo parlando di teoria degli insiemi, ci stanno altre teorie fondazionali, una molto complicata, tipo la teoria delle categorie, in cui si dà tantissima importanza delle relazioni, in cui si fanno praticamente, come dire, si collegano vari sistemi assiomatici, e quindi, già è molto più complicato la mannomia dentro, perché è un campo molto, molto, molto avanzato, e non è nelle mie competenze trattarlo. tuttavia, vi dico che, sistemati gli assiomi, la matematica, non finisce lì, tu devi sistemare anche la regola di inferenza, cioè, partendo da un enunciato, posso, in che modo, creo un altro enunciato, e questo, è la regola di inferenza, in modo, modus ponens, nel nostro caso, quindi, se facciamo un caso, se, prendiamo la regola, ogni volta che piove, apro l'ombrello, prendiamo l'ipotesi A, piove, il modus ponens, mi dice, ok, apri l'ombrello, è una regola logica basilare, però, va definita, perché questa è una regola di inferenza, oltre al sistema astiomatico, io, matematico, posso scegliere anche un'altra regola di inferenza, anche se, giustamente, una matematica, su cui più si lavora, ha questa regola di inferenza, poi, ancora, la logica, ecco, perché tu devi fare una dimostrazione, essenzialmente, la logica principale, quella usata comunemente, è quella booleana, quello che ammette solo falso, è vero, e gli assiomi, ve li potete andare a cercare su internet, facilmente, in pratica, ammette anche il principio di terzo escluso, cioè, una cosa è, o vera, o falsa, oppure, se diamo dei numeri, e a falso diamo zero, e a vero diamo uno, può avere valore di verità, o zero, o uno, bene, sì, ci sono le logiche intuizioniste, che hanno un nome molto più complicato, le algebra di Eiling, Eiling, non so come si pronuncia, ma, lì si può avere valore zero, un mezzo, uno, per esempio, o puoi avere zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, fino all'infinito, dove l'infinito è falso, zero è vero, e tutti quelli in mezzo sono gradi di verità, puoi immaginare come è più divertente, per non parlare, in questo appunto, poi, la teoria delle categorie, ci stanno i topos, la logica basata su un topos, che, lì, nei topos in generale, non vale il principio del terzo escluso, ma vale il principio della negazione, della negazione, della negazione, di un'affermazione, è la negazione di quell'affermazione, cioè, se ho tre negazioni, ne posso eliminare due, essenzialmente, ma, capirete che non è molto semplice a spiegare, ma, è tanta roba, poi c'è anche la logica, oltre i topos, è lì, è lì sono mazzate, essenzialmente, ma, ma, quindi, io posso scegliere degli assiomi precisi, una regola di inferenza precisa, e delle, è la logica che uso, nelle dimostrazioni, fatto questo, che, qui è totalmente la mia libertà, nascite queste tre, tutto il resto è oggettivo, e perciò, si dice, che la matematica, non è un'opinione, capite bene, che però, la matematica, come scienza, che, riceve dati dall'esperienza, non va proprio così bene, se per scienza, intendiamo appunto qualcosa, che, richiede, l'esperienza sensibile, valutare le, l'esperienza sensibile, valutare una teoria, e così via, la matematica, non è così, la matematica, è totalmente pura, la matematica pura, ovviamente, grazie a quella applicata, la matematica pura, è totalmente pura, non prende niente, dall'esperienza, tuttavia, gli assiomi, possono, benissimamente, essere tratti, dall'esperienza, e soprattutto, quella della matematica, più di uso comune, semplicemente, perché, sono quelli che poi, si applicano maggiormente, cioè, dalla matematica pura, passano alla matematica applicata, capirete che, applicare il concetto, di spazio infinito dimensionale, alla natura, non è proprio la cosa, più semplice sulla terra, però si fa in meccanica quantistica, per esempio, o è fisica, o è teoria quantistica dei campi, non mi ricordo, vabbè, quindi, alla domanda, la matematica, è una scienza, abbiamo dato una risposta, e ben mi piace, una citazione, che, l'essenza della matematica, è nella sua libertà, questa citazione, è del matematico, non recentisco, Georg Cantor, un saluto a Cantor, ciao a tutti da, MK Reblof, spero che questo video, su, una piccola, voglia di uscire da matematica, questo podcast, su una piccola, voglia di uscire da matematica, vi sia piaciuto, e adesso vi lascio, ciao ciao,